È stato trasferito dall'ospedale di Chieti all'obitorio del cimitero di Vasto, dove rimane a disposizione della procura, il cadavere recuperato martedì sotto al viadotto Pascrovia dell'A14 in via Salci a Vasto. Si è ora in attesa del risultato del test del DNA, dopo che Italo Gizzi e Grazia Marinucci, genitori di Eleonora, l'educatrice di 34 anni scomparsa lo scorso 28 marzo, sono stati sottoposti al prelievo della saliva. Il riscontro dovrà fugare ogni residuo dubbio sulla corrispondenza con Eleonora Gizzi dei resti scheletrici trovati dal tecnico della società Autostrade durante verifiche al pilone del viadotto. I risultati si potrebbero avere nelle prossime 24-48 ore, dopo che l'esame è stato effettuato utilizzando anche il bulbo pilifero. I genitori Gizzi hanno deciso di evitare in questi momenti qualsiasi tipo di commento, chiudendosi in una comprensibile riservatezza. Il padre di Eleonora, sin dai primi momenti dopo il ritrovamento del cadavere, si è detto certo che si tratti della figlia, che verosimilmente sarebbe morta allontanandosi solo pochi chilometri da casa. In questi mesi la madre si era fatta forte della convinzione che l'allontanamento volontario avesse portato la giovane in un'altra città. In giornata è tornata dalla Lombardia dove risiete da anni Noemi, la sorella di Eleonora. Tutti sono in attesa di conoscere l'identità della vittima e la data più certa della morte, che a quanto è dato sapere finora non sarebbe avvenuta per un atto violento. Lo scheletro è stato trovato in posizione fetale, rannicchiato tra i cartoni.